bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ragazzi oggi giocheremo a geometri da su ma prima di iniziare ragazzi lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanella di notizia per non perdere nessun nuovo video e commentate se volete queste quattro cose io vi saluterò in un video è il mio prossimo video allora mettiamo questo qua giustamente che è il mio prossimo video e iniziamo subito col primo livello ciao ciao no ciao 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 ragazzi al primo tentativo che non ci posso credere due stelle e zero monete perchè non sono riuscito a prendere riscusatemi e andiamo col terzo livello musica no 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 no